Andiamo insieme al mercato di via Valvasori Peroni a Milano. Come potete vedere ci sono tantissime cose autunnali, invernali, cappotti, maglioni di tantissimi brand, prezzi incredibili perché 3 euro e 3,99 euro sono pochissimo. Questo è uno dei miei stand preferiti, blazer incredibili, anche lana a 5 euro. Pantofoli di tutti i tipi, di tutti i colori per tutte le taglie, tutti i numeri. Questa bancarella super carina, cose vintage, due pezzi a 5 euro. Poi c'era questa bancarella di scarpe e anche delle scarpe pazzesche, raga, guess, grandi marchi, veramente stupende. C'erano pochi numeri però, veramente delle chicche meravigliose. Queste costavano sui 40 euro, mi pare. Poi se volete vedere quello che ho preso, fatemi sapere perché ho preso tante cose interessanti.